Oggi gli anestetismi del volto possono essere trattati con varie tecnologie. Questa piattaforma, il Facelab, integra quattro tecnologie che vanno ad agire sui tessuti, sia a livello della cellula, stimolandola nei diversi strati dell'epidermide e del derma. Queste tecnologie sono il water pill, gli ultrasuoni, gli infrarossi e la radiofrequenza. La prima tecnologia che andremo ad utilizzare è il water pill. Questo manipolo è costituito da un getto bifasico di aria e liquido. Possiamo avere due puntali, un puntale a tre fori di uscita e un puntale a un solo foro di uscita, a seconda dell'intensità che vogliamo ottenere. Bene utilizzato sulla cute determina un'escolazione dei primi strati superficiali dell'epidermide. Può essere utilizzato a 45 gradi per effettuare una pulizia profonda del viso oppure inclinato a 90 gradi. Inclinandolo andremo ad effettuare una vera e propria curazione meccanica. Questo manipolo viene utilizzato per preparare la cute alle successive tecnologie. Grazie. 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 produce nuove fibre di collagene di buco. La terza tecnologia che andremo ad utilizzare è l'infrarosso. L'infrarosso è una sorgente luminosa, continuativa e progressiva, con all'interno una camera di raffreddamento. Viene utilizzato per combattere l'invecchiamento cutaneo, per migliorare la grana della pelle e l'incarnato, ma soprattutto l'infrarosso va ad agire nella centrale biochimica del fibroblasta, ovvero il mitocondrio, trasformando l'ATP in ATP. La terza tecnologia che andremo ad utilizzare sono gli ultrasuoni, la cui vibrazione determina un'oscillazione delle particelle nei tessuti, attiva un micromassaggio e aumenta la temperatura locale. Aumentando così il trofismo si ha un migliore assorbimento dei principi attivi utilizzati. L'utilizzo combinato delle tecnologie e dei principi attivi migliora in maniera sorprendente i risultati estetici. L'utilizzo combinato delle tecnologie e dei principi attivi migliora in maniera sorprendente i risultati. L'utilizzo combinato delle tecnologie e dei principi attivi migliora in maniera sorprendente i risultati. L'utilizzo combinato delle tecnologie e dei principi attivi migliora in maniera sorprendente i risultati.